Qual è il tema? Il tema è che, badate bene e fate una grande attenzione a quello che vi dico adesso, il tema è questo, un documentario si gira nel luogo in cui si vuole raccontare qualche cosa, giusto? Cioè, se voi qui a Torino c'è il Museo Egizio, va bene? Se voi volete realizzare un documentario sul Museo Egizio, cosa fate? Andate al Museo Egizio, giusto? Con la vostra classe, giusto? Ora, la domanda è questa. Voi pensate che il direttore del Museo Egizio vi lascia filmare, registrare con gli allievi che parlano, fanno la presentazione, tutto all'interno del museo? No. Anche il figlio di Piero Angela deve chiedere tutte le procedure, una trafila burocratica che non finisce più, per riuscire forse a fare qualche ripresa dentro il Museo Egizio, giusto? Però voi volete realizzare un documentario, perché domani avete la visita al Museo Egizio, i vostri ragazzi hanno tutti il ceolare, i filmati si possono fare, ma come cavolo fate a fare un documentario con uno che presenta, spiega le cose e tutto, giusto? E' molto semplice. Voi fate così. Darete indicazione ai vostri studenti di fare dei filmati in un certo modo, cioè tenendo il cellulare rettangolare, non verticale, basta con quei filmati verticali assurdi. Il film è orizzontale, il 16-9. Quindi cellulare orizzontale, due mani ferme e contare fino a 10 o fino a 5, anzi facciamo così, fino a 5 meglio, ogni ripresa. Quindi siamo davanti alla, che ne so, alla piroga di Tutankhamon. Pronti via, 1, 2, 3, 4, 5, fermi. Poi si cambia, si stoppa. Quindi avremo tanti film di 5 secondi. E poi andiamo in classe. E in classe cosa facciamo? In classe scriviamo la sceneggiatura. Scriviamo la sceneggiatura, poi qui mettiamo, qui dietro mettiamo un pannello verde, un green screen. Ovviamente non vi posso spiegare tutte queste tecniche, come funzionano, perché, cioè non è questo un corso sul montaggio video, no? Però se voi mettete un green screen, oppure siete in classe e state su una parete bianca, una semplice parete bianca per dire, ecco che voi potete fare procedere in questo modo. E cioè, prima avete la presentazione, vedete, è punto numero uno presentazione. Quindi in classe qualcuno su una parete bianca fa una breve presentazione del documentario. Quindi adesso ci richiamo al Museo Egizio, dove vedremo questo e quest'altro, eccetera, eccetera. Poi due, mettete un'immagine di collogamento, cioè una fotografia, vedete due, la fotografia di un dettaglio. Vedete che sotto c'è una musichetta, mentre qui abbiamo il parlato. Distinguete il parlato dalla musica, perché il parlato ha un'onda sonora meno alta, mentre la musica occupa più spazio. Poi che cosa fate? Poi, punto numero tre, filmato di documentazione. Ecco che avviate il film di documentazione, cioè i vari filmati che avete montato insieme, che avete scelto, che avete selezionato, cominciate con la tomba di Tutankhamon, va bene? Il tre sarà non solo la tomba di Tutankhamon. E il quattro che cos'è? Il quattro, in sovrapposizione, è un picture in picture, cioè i movie offre questa possibilità di registrare nuovamente una spiegazione sulla tomba di Tutankhamon, che voi realizzate in classe, quindi la spiegazione avviene proprio in aula, la sovrapponete e qui in un riquadro appare, sapete come ai telegiornali, no? Quando c'è, non so, le immagini della guerra, eccetera, e poi in un riquadro c'è il cronista che parla. Avete presente? Ecco, lui realizza la stessa identica cosa. Quindi, attenzione, attenzione. Se voi qui, come riquadro, prendete solo la testa dello studente, tanto non serve altro, lui potrebbe essere anche al Museo Egizio. E date l'impressione che la registrazione di ciò che è avvenuto al Museo Egizio e della spiegazione dello studente sia avvenuta contemporaneamente proprio sul luogo. E invece no, non è così. Quindi, ripeto, potete usare queste tecniche. Allora, senza neanche usare il green screen, che magari vi complica la vita. Ma parete bianca, presentazione. Poi, foto di stacco, perché non entriamo subito nel, ma foto di stacco. E lo spettatore si mette a suo agio e inizia. Iniziano i vostri filmati sul Museo Egizio. Sopra questi filmati montate che cosa? Di nuovo la spiegazione dello studente o vostro a quello che è, però avendo accortezza di riprendere solo dalle spalle al viso, sempre su una parete bianca. E basta. Lo montate in modo che appaia, si chiama picture in picture, cioè finestra nella finestra, una piccola finestra sopra la tomba di Tutankamano, come volete voi. Poi continuate con cinque. Cinque, un filmato Adobe, sì, qui è, vabbè, diciamo, diciamo un filmato di chiusura, d'accordo? Con delle immagini, delle fotografie, no? Una chiusura e poi nero e titoli di coda. Quindi vi suggerisco di entrare nel Museo Egizio con una fotografia e di uscire dal Museo Egizio, o da dove siete, no? con un altro meccanismo di chiusura che potrebbe essere un insieme di immagini, di fotografie, eccetera, realizzate al museo e poi la chiusura. Con questa tecnica voi potete far finta di essere in Australia, New York, a Palermo, dove pare a voi? Dove pare a voi? Il principio è che voi riprendete la spiegazione solo nella testa e, zac, la inserite in un picture in picture all'interno di filmati che avete girato per conto vostro senza, diciamo, durante l'uscita scolastica o quello che è, ma senza aver realizzato proprio il documentario in luogo, cosa impossibile da fare. o perché c'è rumore, c'è gente, o perché non avete i diritti e le autorizzazioni, eccetera, eccetera. Naturalmente dai filmati che avete registrato nel Museo Egizio togliete l'audio, oppure li registrate senza sonoro, il sonoro non serve a niente. Vedete? Cinque step, no, erano sei perché, vabbè, ci sono i dito di coda. Basta, e sono i venti e quaranta e abbiamo spaccato proprio... Eh? 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 Grazie a tutti.